Amici e amiche, come direbbe un caro amico sacerdote che abbiamo in cielo, don Augusto Gianola, che spero di farvi conoscere sempre meglio, come negli anni ci siamo impegnati tanto nel far conoscere Fulton Sheen. Lui diceva che è tempo di correre, è tempo di correre e don Augusto Gianola diceva che la solitudine, l'essere soli con Dio e la lotta sono proprio condizioni fondamentali per il rapporto che ciascuno di noi nella sua intimità deve avere con Dio e se è così preghiera e azione si fondono, sono la nostra realtà, un'unica cosa, come la nostra anima alla quale è stata donata un corpo, preghiera e azione che si fondono e diventiamo quel sacrificio di lode, gradito a Dio, quella preghiera continua. Stiamo combattendo con la preghiera, con l'azione, è un'unica cosa. non siamo persone che vendono utopie perché il termine utopia è la maniera, penso, più comoda per liquidare quello che non si ha voglia di fare. Un sogno, se ci pensate, sembra un sogno, ma lo è fin tanto che non si comincia da qualche parte a fare qualcosa e solo allora diventa non più un sogno ma un proposito, cioè un qualcosa di infinitamente più grande. adesso abbiamo visto il caso Sanremo, nei link che trovate ce ne sono due, io vi invito a mettere la vostra firma sia in quello che è stato creato con Provite Famiglia, sia su quello creato con i cristiani evangelici uniti, facciamoci sentire come i cristiani, facciamoci sentire, come diceva Giovanni Paolo II, facciamo Baccano, facciamo questo fracasso, il fracasso dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che si muove, facciamoci sentire, quindi mettete le vostre firme in questi link, dobbiamo essere tanti, dobbiamo essere numerosi e dobbiamo farci sentire, noi chiediamo rispetto per le figure di Gesù, di Maria, dei nostri santi, della Chiesa, rispetto per tutti noi cristiani che amiamo Dio, adoriamo Dio, lo preghiamo con tutto il cuore e abbiamo dei santi che ci sono di ispirazione per essere buoni, almeno buoni, almeno più buoni e quello che i cristiani fanno è sempre per il bene di tutti, di ogni persona credente non e quindi questo merita rispetto, soprattutto in Italia che è una terra cristiana. Scusatemi la voce, oggi sono un po' provato ma poi passa. Bene, quindi vi invito a mettere la firma, poi se volete abbiamo aperto un altro gruppo ancora di preghierazione perché ogni gruppo Whatsapp quando raggiunge i 257 iscritti non se ne possono mettere altri, ne abbiamo aperto uno nuovo per chi volesse. Il gruppo preghierazione è solo un'agendina, non è una chat, non ti si ingolfa il cellulare, ricevi degli input per la preghiera, per qualche riflessione. Se vuoi io ti invito a farne parte perché è un segno semplice e stupido, molto semplice proprio, per essere uniti, per dire ci sono, ehi ci sono, ci sono sul serio, voglio anch'io che cambino le cose e siccome voglio che cambino davvero, comincio a voler mostrare questo segno di unità per dire ecco, io ci sono, signore ascolta il tuo servo ti parla, eccomi, manda a me. Ognuno di noi deve sentirsi chiamato in questo. Iniziamo subito la nostra momento di preghiera, in questo secondo giorno di digiuno, per riparare alle offese che si fanno addio e contro la cristianofobia. In nomine Iesu, omne ceno, flectator, celestium, terrestium et infernorum, et omine lingua confiteator, qui è dominus notter Jesus Christus, in gloria est dei Patris, Amen. Nel nome di Gesù ogni cinocchio si pieghi in cielo, in terra, sotto terra. Ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, riparazione di tutto il male, di tutte le offese, al tuo amore, alla tua presenza, alla tua regalità. Noi ti vogliamo lodare, noi ti vogliamo amare con tutto il cuore, Gesù, perché tu sei santo, Signore, il Dio è unico, che fai cose stupende, tu sei forte, tu, Signore, sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re onipotente, tu sei il Padre Santo, Re del cielo e della terra, tu sei trino e unico, Signore, il Dio degli dèi, tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore, il Dio vivo e vero, tu sei amore, sei carità, tu, Signore, sei sapienza, tu, Signore, sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei bellezza, Signore, tu sei mitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode, il difensore nostro, tu sei fortezza, tu, Signore, sei il rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile, Signore, Dio onipotente, misericordioso e salvatore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, ame, ti amo, mio Dio, mio Dio, il mio solo desiderio è di amarti, fino all'ultimo respiro della mia vita, io ti amo, o Dio infinitamente amabile e preferisco morire amandoti che vivere un solo istante senza amarti, io ti amo, o mio Dio, e non desidero il cielo se non per avere il piacere di amarti perfettamente, io ti amo, o mio Dio, e temo l'inferno solamente perché non ci sarà mai dolce consolazione di amarti, o mio Dio, se la lingua non può dire ad ogni istante che ti amo, voglio almeno che il mio cuore te lo ripeta ad ogni respiro, fammi la grazia di soffrire amandoti, di amarti soffrendo e di ispirare un giorno amandoti e sentendo che ti amo, più mi avvicino alla fine, più ti scongiuro di accrescere il mio amore e di renderlo più perfetto, Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Adesso pensiamo proprio a Gesù crocifisso, se abbiamo un crocifisso in mano, un crocifisso del rosario, o una croce, guardiamo la croce, guardiamo la croce, pensiamo a Gesù, a quello che ha sofferto per noi e che è disposto sempre, ogni giorno. Tutto ha dato Gesù e ci ha chiamato amici. Cosa do io a Gesù? Anima Christi, santificami, Corpus Christi, salvami, Sanguis Christi, nebriami, Acque lateris Christi, lavami, Passio Christi, confortami, O buono Iesu, esaudimi, intratto a vulnerabscondami, ne permites me separare te, aboste maligno, defendami, in ora mortis me avvocami, e ti uve me venire a te, ut cusantis tuis laudem te, in secolo a secolorum, Amen. Anima di Cristo, santificami, Corpo di Cristo, salvami, Sangue di Cristo, inebriami, Acqua del costato di Cristo, lavami, Passione di Cristo, confortami, O buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. dal nemico maligno, difendimi, nell'ora della mia morte, chiamami, comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi, nei secoli dei secoli, Amen. Preghiamo. Rapiscati, prego, o Signore, l'ardente dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoio, per l'amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato di morire, per l'amore dell'amore mio, Amen. Ci benedica, Dio onipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, Amen. Viva Cristo Re e Maria Regina, nostra madre. Scusatemi per la voce, ancora vi chiedo scusa, ma era più importante il nostro momento di preghiera insieme che dello stato in cui mi trovo, o ci troviamo in questo momento. Abbiamo tanti malati per cui pregare, tanti sacerdoti per cui pregare, tanti fratelli cristiani per cui pregare, i bambini, i nostri bambini, quanti piccoli bambini sono nella sofferenza, in sofferenze gravi. Continuiamo a ricordare in modo particolare a Rebecca e Agatha e tutti i bambini che mandate la nostra attenzione, o anche a me direttamente, ai nostri bambini. Sono proprio i nostri fratellini, le nostre sorelline, i nostri figli. Proteggiamoli con la preghiera, invochiamo la Madonna, invochiamo San Michele Arcangelo. Gesù passa, Gesù passa, Gesù guarisce, Gesù è il nostro Dio, unico Salvatore, Gesù salva, Gesù, io amo te, tu ami me. Grazie, grazie di cuore per questo momento di preghiera. Restiamo uniti, santi insieme e sguardo fisso su Gesù. Grazie.